Se fate sport iniziate piano, prima di tutto fate un controllo cardiologico e dopo approcciatevi all'attività fisica con rispetto anche del vostro corpo, cosa che spesso in vacanza si scorda di fare. Gli specialisti lo dicono senza giri di parole. D'estate non ci si improvvisa atleti. L'organismo in letargo per i mesi invernali si trova sottoposto all'improvviso a stress che non tutti, indipendentemente dall'età e dalla condizione fisica, sono in grado di reggere. Prima di infilare gli scarpini, di esibirsi su un campo di tennis o di tuffarsi per una maratona acquatica è necessario seguire poche ma fondamentali regole. Consiglio inizialmente di farsi vedere da un cardiologo, fare degli esami, sicuramente non solo l'elettrocardiogramma normale ma anche quello da sforzo perché si vanno a fare degli sforzi e poi a seconda di quello che dice il cardiologo fare eventualmente degli altri esami complementari. L'attività fisica è fortemente raccomandata a tutte le età per uno stile di vita sano ma come sempre con un limite ben definito. Il cuore deve esercitarsi, il limite è farla all'improvviso ad alti livelli. La cosa importante è che come tutti i muscoli anche il cuore ha bisogno di un esercizio continuo, graduale e soprattutto sotto il controllo medico.